Ciao a tutti e Zuko, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in una nuova reaction a un nuovo trailer spot featurette di Moon Knight, la prossima serie tv della Marvel. Hanno rilasciato oggi questa piccola cosa che è durante un minuto e trenta, ora ce l'andiamo a vedere. Come vedete siamo live su Twitch, vi ricordo che siamo live tutti i giorni, trovate il link in descrizione, basta cercare JTaz, anche col trattino basso alla fine mi trovate, Twitch è gratis. Se poi avete Amazon Prime avete tanti golosi vantaggi. A parte ciò, prossima serie della Marvel che uscirà dal trenta marzo, quindi mancano venti giorni, ci saranno reaction, analisi, le solite cose, talk show. Ma andiamo a vedere questo trailer e scriviamo un pochettino cosa c'è dentro. Allora il trailerino si trova sul canale di Marvel Entertainment, chiaramente su Marvel Italia non ci sta naturalmente, quindi non è doppiato. Sottotitoli, ci accontentiamo e già avevamo dato un occhio in verità in stream al primo mezzo secondo che sembra già figo, lui è già vestito con gli occhi bianchi. E mo, tre, due, uno, via. Che bello! Quello è Mr. Knight! Eccolo! E' la fidanzata quella là. Laila. Bello! E' la stessa persona. Il tono è come come un club di combattimento di Indiana Jones. E' un po' scuro a volte. Per farlo in qualcosa di così vasto e supernaturale, è iniziato. Ricorda la mummia. Thank you! Qualcun aspetto di questo show ha una dualità e abbiamo cambiato il paradigmo. Per me, quello che è davvero divertente è che è totalmente evitabile. To Disney Plus. Pog, figo. Qualche, qualche scenetta, qualche scenetta nuova. Ho visto qua un movimento... Tiè, guarda che... Sta attivando qualcosa, tipo un mezzo comando, perché guardano qualcosa. Questo guarda qua. Questo guarda qualcosa. La manina. Però bellissimo qua. Cioè, per me bastava questo da far vedere oggi in questo trailer. Questa trasformazione bellissima. Oltre a ciò, inoltre, ci hanno rilasciato questa foto di Mr. Knight che si guarda allo specchio. E come vedete, ovviamente, qua c'è Mr. Knight, tra virgolette, cosciente. Immagino che prova a parlare con il Mr. Knight nello specchio che invece fa quello che gli pare. Insomma, vedete che ci sono qua le braccia abbassate e quale braccia alzate. Quindi sono le varie personalità che si parlano. E inoltre, hanno rilasciato anche i vari poster. Questo qua è il poster di Mr. Knight. Questo qua è il poster di Moon Knight, ovviamente. E questo qua è il poster, tra virgolette, normale di Steven. E appunto sono le tre personalità. Disney stessa, nella pubblicità di questi poster, la definite le tre fasi, come le fasi lunari di Moon Knight. Sono molto fighi, devo dire. Veramente gran bei poster. Poi appunto con gli altri rispettivi personaggi dietro. Molto belli, molto carini, molto fighi. Anche la foto. Vorrei vedere di più di Mr. Knight nel trailer. Già ci hanno fatto vedere un'altra foto, ma nel trailer praticamente si è visto un attimo oggi. Ma poi basta. Più che altro perché Mr. Knight dovrebbe anche essere quello un pochettino un po' più aggressivo, tra virgolette. Però, a parte ciò, sono super curioso di vedere questa serie. Come detto, esce dal 30 marzo. Ci saranno reaction, ci saranno le analisi. Per sei episodi, mi sembra. E inoltre, già per chi se lo chiedesse, al day one, il primo giorno, il 30 marzo, ci sarà un solo episodio. Non due, come è successo ad esempio con Occhio di Falco. A parte ciò, ci vediamo tutti i giorni in stelle su Twitch, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Skadush!